Io sono Guido e sono stato al Dream Lagoon Io ho alloggiato al Dream Lagoon Ho alloggiato al Dream Lagoon Ciao, sono Italo Sher, vengo da Udine La vacanza è stata strepitosa Come puoi notare sono il più abbonzato del villaggio Ciao, sono Alessia Ho soggiornato una settimana Questo è il secondo anno che veniamo Siamo stati qua l'anno scorso Le ultime due di luglio Quindi il fatto che siamo tornati Sicuramente la dice lunga sul fatto che abbiamo gradito Siamo stati felicissimi di questa vacanza Mi è piaciuto tantissimo sia la stand, la camera Che la spiaggia, il mare Vacanza stupenda, animazione stupenda È stata una settimana rilassante, distensiva Questa vacanza è stata molto bella Mi sono divertito molto Questo villaggio è sicuramente quello che ho preferito Soprattutto per l'animazione Ci sono trovato benissimo Ci sono arrivato in perfetto orario Ho mangiato bene L'animazione è eccellente Pieno di ragazzi simpatici Per fare kite è stupendo Direi che è una vacanza ok Avrei voluto prolungare Il lavoro ci chiama Bella l'animazione Complimenti a tutti Ciao Saluta a tutti Grazie Un saluto Ciao Vuoi salutare? Grazie 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 a tutti.